Conto alla rovescia per il ritorno dei play-off di Serie C. Domenica a Rigamonticeppi, Lecco e Foggia si giocheranno la promozione in Serie B. Mister Foschi risponde così a polemiche veleni che hanno accompagnato gli ultimi giorni. Io sono ancora uno che vive di sentimenti e che ha fiducia nella professionalità del prossimo in tutto quello che si fa. Poi possiamo discutere un errore piuttosto che un altro, ma sono sempre convinto che un professionista è un professionista come lo è l'arbitro di domani e come lo è stato l'arbitro precedentemente, dove tra l'altro video alla mano non mi sembra che abbia sbagliato nulla. Quindi, detto questo, sono sincero, io mi sono sempre affidato ai direttori di gara con estrema fiducia. Ho sempre ritenuto che la nostra categoria in Italia degli arbitri è una categoria forte, bella, brava, fra i migliori al mondo, mi permetto di dire, e si parte dalla C, perché la scuola degli arbitri che abbiamo in Italia è una scuola efficace, importante, gestita da persone che sanno fare il proprio mestiere. Quindi io ho grande fiducia nella professionalità della gente. Dopo, ripeto, ognuno può pensare di vincere o di voler vincere le partite come meglio crede. In campo ci sono due squadre che si batteranno domani per una finale dove chi è più bravo vince, alla fine, né più e né meno. Intanto è pronto a entrare in azione in un imponente dispositivo di sicurezza per garantire che non ci siano incidenti. Il sindaco Gattinoni rassicura. Ci stiamo raccordando tra Comune, Prefettura e Questura per coordinare le iniziative migliori. noi abbiamo delle stime, degli scenari su quello che potrebbe succedere nel pre, durante la partita e anche nel post partita, a seconda di quale sarà l'esito sportivo. L'incognita maggiore ovviamente riguarda i numeri dei tifosi foggiani che sono attesi a Lecco. Ci sono state prese tutte le misure del caso, con cordone di sicurezza, zone di filtraggio e di prefiltraggio, logistica speciale e ovviamente personale di sicurezza in più. Tutto ovviamente però sarebbe inutile se non ci fosse un'autodisciplina da parte dei tifosi, delle famiglie. Tutti speriamo che sarà una serata di grande sport e di festa per la città. Il Covid ha messo a dura prova tutti noi. Dopo la pandemia sono esplose le richieste di aiuto e di supporto psicologico, in particolare da parte delle nuove generazioni. Il Comune di Lecco e l'Ordine degli Psicologi hanno per questo sottoscritto un patto di collaborazione. È sempre più importante che i Comuni mostrino una sensibilità, visto i dati di costante aumento che sono rilevati da ricerche documentate e documentabili, a livello locale, nazionale e internazionale, che evidenziano questo aumento del malessere. Quindi è importante intervenire in termini di prevenzione e di intervento, in modo da iniziare a procedere con un cambiamento culturale che vede nel malessere un punto di attenzione e quindi anche un punto di potenziale trasformazione in risorsa. Il protocollo d'intesa è nato da un intenso lavoro di confronto e di riflessione con l'amministrazione comunale, in cui io come referente della provincia di Lecco ho cercato un po' di capire assieme al Comune quelli che sono i bisogni per quanto riguarda l'infanzia e l'adolescenza e le possibili risposte che andranno sicuramente nella direzione di rafforzare i servizi esistenti e di collaborare anche in futuro per costruire nuove progettualità. L'amministrazione del Comune di Lecco ha deciso di sottoscrivere questo protocollo perché ci siamo resi conto di quello che ormai è visibile a tutti, un aumento dei casi di bisogno a partire anche dalla primissima infanzia e disagio mentale nelle nostre comunità. Di fronte a questo bisogno la risposta è quella di costruire una rete, costruire alleanze con soggetti che abbiano le competenze, le capacità e la possibilità di leggere i bisogni e costruire in sinergia con il Comune le risposte concrete. L'inaugurazione di una casetta utile per tutta la comunità. Sì, sono molto felice di questa casetta che per noi è la terza sul territorio comunale, la prima installata da Ario Reti Holding. È in una zona strategica perché è all'interno del quartiere del Peslago, che è un quartiere densamente abitato, vicino ad un parco pubblico molto frequentato e vicino alla scuola dell'infanzia e alla scuola elementare. Quindi io spero veramente che i miei cittadini la apprezzino e la utilizzino. Come se ne può usufruire? Si può usufruire mediante una tessera. La tessera si può prendere ad un totem che si trova nel portico all'ingresso del municipio, proprio da parte al distributore dei sacchi rossi. Lì si può prendere la tessera e ricaricarla. Il costo per un litro di acqua gasata o naturale, sempre refrigerata, è di 5 centesimi. Prezzi accessibili, quindi un'acqua purificata, la popolazione ne sarà sicuramente contenta. Sì, spero di sì. Spero che con questa ulteriore casetta possiamo ancora aumentare l'utilizzo dell'acqua cosiddetta del sindaco e diminuire la produzione di rifiuti di bottiglie di plastica. Siamo molto contenti di aver inaugurato questa casetta a Oggiono. L'utilità di queste casette è abituare la gente al consumo dell'acqua potabile e di conseguenza a ridurre tutto l'utilizzo di plastica. Hanno acqua potabile corrente, per cui sempre fresca e soprattutto sempre molto, ma molto controllata. Questo per noi è fondamentale. Oltre a Oggiono avete in mente altri paesi del territorio dove posizionare queste casette? Noi abbiamo iniziato già qualche anno fa, purtroppo il Covid ci ha fermato perché avevamo iniziato nelle scuole e diventava un punto di aggregazione per cui abbiamo dovuto sospendere sia l'installazione sia l'erogazione. Adesso per fortuna questo problema sembra passato e nostra intenzione è di procedere anno con anno a installare un certo numero di casette. Sono già arrivate le richieste prima di aprire la vendita dei biglietti. Torna sabato 1 luglio la tanto attesa cena in bianco di Val Madrera. Otto regole e cinque parole chiave. Ma l'organizzazione ci tiene a sottolineare non è un'iniziativa da snob, ma un modo diverso e cordiale per stare insieme. Ce ne parla? La richiesta che deve essere total white, quindi tutto in bianco, una cena dove ognuno di noi ci mette del suo, nel senso che la consulta alimentazione in collaborazione col comune di Val Madrera metterà a disposizione tavoli, sedie, panche e chi invece parteciperà metterà a disposizione quello che andrà a gustare durante la serata. Quindi porterà tovaglie, piatti, bicchieri, niente di carta, niente di plastica, ma tutto in stoffa e in ceramica. E chiaramente quello che invece verrà messo nel piatto, quello possiamo concedere colorato. E da questa descrizione si capisce che le cinque parole chiave sono etica, estetica, ecologia, educazione ed eleganza. Il ricavato? Il biglietto costa 10 euro. A cosa servono queste 10 euro? A coprire le spese, il pagamento della CIAI, piuttosto che altre piccole spese che comporta la serata. E poi il tutto verrà dato in beneficenza. Lo doneremo alla protezione civile, in quanto con loro faremo parte dell'organizzazione della serata. Quindi ci aiuteranno ad allestire il Fatebene Fratelli per accogliere tutti i presenti della cena. A partecipare all'organizzazione è anche la consulta dell'alimentazione del comune di Val Madrera. Come si connette l'attenzione ad un'alimentazione sana con la cena in bianco? Noi promuoviamo, diciamo, la qualità della vita. La qualità della vita è anche mangiare sano, ma anche in questo caso di convivialità. Stare insieme, anche questa è salute. Star bene dentro è anche salute, anche questa. Divertirsi è salute, anche questa. Ballare, perché potranno ballare. Federico Riva e Federico Penci, organizzatori di Save the Lake, una manifestazione non solo di recupero sui rifiuti dei fondali del lago, ma anche festa. Una festa comunque con un obbligo ben preciso, pulire e salvaguardare il lago. Certo, l'obiettivo nostro non è semplicemente in questa giornata qua, perché è una giornata un po' di festa per noi, in quanto siamo diventati associazioni qualche mese fa. Però ormai è terzo anno che facciamo questa iniziativa. I rifiuti con la corrente comunque ne abbiamo trovati e adesso nulla, si sta articolando un po' tutta la giornata e splende il sole e si inizierà a godere un po', ecco, la compagnia. Come si svolge la giornata? Uno che vuol fare attività di pulizia cosa deve fare? Si prenota prima per avere uno spazio sulle canoe che ovviamente sono a numero chiuso, si presenta qui la mattina e segue le regole che sono state date per stare in sicurezza, pulire, conoscere anche il posto e seguire chi dà le direttive tipo Federico e i suoi compari e la crew. Abbiamo recuperato comunque un buon quantitativo, comunque i soliti che troviamo molti copertoni, plastiche, polistirolo, tanto che di solito galleggia, lo trovi arenato sulle varie rocce e spiagge, quantitativi difficili, anche perché con l'acqua comunque pesano di più. Come ha detto Federico, una community e voi avete dato una mano, perché lo fate? Perché ci teniamo al nostro lago, alla pulizia delle nostre sponde, troviamo che sia un evento comunque interessante in cui si possono fare anche più attività e ci piace ritrovarci per questa occasione, è anche un momento di ritrovo proprio. Di strano è stato recuperato, tra le altre cose, uno schermo televisivo, un liverino, un liverino di un paio di metri di lunghezza, una chiave del 36, stranissima, targhe, targhe di automobili. È sempre un'emozione bella, riuscire a pulire il lago, riuscire a dare una mano a tutti, ci siamo divertiti, sott'acqua, siamo sempre stati a una buona profondità, non troppo alto, non troppo basso, con una buona luce. È sempre bello partecipare a questi eventi perché ti senti a tuo agio con l'ambiente circostante, vedi la natura e cerchi di dare il tuo contributo. E vogliamo far sì che non ci sia, capito, un Federico Riva, un Lorenzo Negri o altre persone appunto che fanno da frontman, ma sia appunto un evento, una situazione da condividere, che ognuno si senta parte.